allora sì sì di ora possiamo dire che ormai si va ad aggiudicare questa allora è di ora di ora con simone vecchia con gli applausi del pubblico vanno verso la linea per l'argo naturalmente la mia è sempre una scientifica ufficiosa si resta in seconda posizione con simone costantini, federico busetto, caprile lazzarini, giacomo maragon poi troviamo in terza posizione il rosso in terza posizione il rosso terza posizione il rosso Giuliano Paganga, Etano Brigantin, Ivo Redolfi, Terzata, Alessandro Secco poi il verde in quarta posizione attenzione perché ci davano il bianco verde in quarta posizione quindi in bandiera Giacomo Colombi, Andrea Ortica, Damiano Allegretto, Matteo Zane quinta posizione il bianco che quindi deve aver ceduto la sua bandiera proprio nell'ultimo tratto il bianco con Riccardo Ganazzo, Luigi Lombardo Sesto il rosa mi confermano al viso a destra Mattia Colombi, Maurizio Rossi, Mattia Costantini eccolo qua il rosa è una delle due imbarcazioni che hanno scelto una traiettoria del tutto particolare in ogni caso vanno in sesta posizione ed eccolo qua il canarino con Renato Busetto, Nicolò Schiavone Andrea Rosina e Mattia Baldin più lontano per chiudere questa regata che è stata in particolare in modo molto combattuta subito